Enzo Salome, tecnico della Termolinuoto, dunque torna a questo appuntamento dopo un paio d'anni di vacanze forzate. Sì, per me è un'emozione perché vengo proprio da vecchia data, da quando è incominciato questo meeting ed è stata una cosa molto molto bella rifarla rivivere perché ci ricorda veramente momenti bellissimi dove venivano fiorfiori di atleti tipo Battistelli, ma ne sono venuti veramente tanti. Quindi riproporre questa manifestazione anche per le società che hanno aderito è stato come un tuffo nel passato dalla vecchia gestione di Sciarretta che poi tra l'altro il Memorial Sciarretta lo prendiamo da questa cosa qui. È stato molto molto bello ed emozionante, adesso i nostri atleti hanno la possibilità di rivivere anche loro questi ragazzini giovani, queste emozioni che abbiamo vissuto noi in passato. Certamente, senti io ho un po' di anni che faccio il giornalista, quindi insomma so perfettamente chi siete perché siete sicuramente una delle società sportive più longeve non soltanto del Molise ma probabilmente anche d'Italia e quindi insomma ci mancava un po' questo riferimento dell'organizzazione di questo meeting. Quindi insomma complimenti a voi ma complimenti anche a questo sodalizio che si è creato con l'M2 perché insomma significa che nello sport alla fine ci si aiuta. Sì, ma è questo che ultimamente non sta passando più, a me fa piacere di questo sodalizio proprio perché grazie ad Amelia e a tutta la famiglia Mascioli che hanno sofferto anche loro perché io facevo allora l'allenatore con la società Nuoto Campobasso poi con l'H2 Sport e mi ricordo delle crisi che avevamo noi quando l'impianto veniva chiuso e chi ci ha dato sempre spazio gratuitamente è stata la Termoli Nuoto. Ricordo sempre con affetto anche la vostra televisione che è stata sempre vicino allo sport in tutti gli sport, a tutte le discipline non solamente al calcio e ricordo bene quando venivate a fare i servizi e questa è la migliore pubblicità. Quello che stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi è proprio questa sportività. I miei ragazzi hanno fatto dei sacrifici veramente enormi in questi due anni e mezzo, in questi tre anni a fare sotto e sopra Termoli Vasto però c'è una squadra fortissima proprio perché è cresciuta a livello proprio di maturità proprio personale sportiva e quello è stato il risultato più bello che mi hanno potuto fare i ragazzi e che hanno potuto fare alla Termoli Nuoto. Per quanto riguarda questo sodalizio è stata stupenda, la famiglia Mascioli che ci ha dato la possibilità di far rivivere questa esperienza e grazie a questo i ragazzi secondo me usciranno fuori ancora più ricchi da questa situazione.